Quello che si vede nelle strade è abbastanza delle volte in diminuizione, poi questo fatto della scarsa frequenza sia nelle strade del centro storico che nelle piazze non vuole necessariamente dire che le presenze negli alberghi sono diminuite perché i numeri invece ci dicono che la presenza negli alberghi è sostanzialmente stabile. Il turismo c'è ma il commercio soffre, è questo quello che si percepisce facendo un giro tra le vetrine di Arezzo, a passeggio percorso Italia i turisti in questo caldo agosto in effetti ci sono, ma gli acquisti nei negozi stentano a decollare e dopo una primavera decisamente negativa, colpa anche delle condizioni meteo, il tessuto commerciale a retino ha davvero il fiato corto. Quello che io ormai, questa campagna che io ormai faccio da sempre, questa mia fissazione dell'attenzione ai negozi tradizionali, forse hanno bisogno quando vengono a vivere una vacanza nel nostro territorio, sia che sia agroturismo, sia che sia centro storico, di vivere la qualità della vita, i nostri colori, il nostro tenore di vita, di vedere negozi anche caratteristici, tradizionali, di privati, non grosse catene che comunque trovano in tutte le loro città, ma il commerciante, il professionista che ti assiste con la sua professionalità, che continua a fare ricerca e a offrire stimoli. Forse dovremmo nella nostra città pensare di fare di più per stimolare chi viene e chi esce nelle strade. Una mano più stretta, eventi anche un pochino più ravvicinati, legati ad esempio anche all'offerta museale, perché noi insomma ne abbiamo di cose belle da far vedere. Sì, noi come ConfCommercio ci stiamo anche muovendo, rappresentiamo le guide e come avrai notato tutte le volte che facciamo un evento ci aggangiamo appunto alle guide, cerchiamo di far vedere quello che il nostro territorio ci offre a livello museale che è veramente tanto. Però non basta, non basta solo l'offerta museale o solo questo stupendo panorama artistico, le chiese, Piero della Francesca e tutto quanto, perché l'Italia è disseminata di tesori immensi e di cose straordinariamente belle. Forse dovremmo riuscire proprio a ricreare quella vita bella che i turisti vogliono vedere quando vengono in vacanza.